Allora, cari amici, oggi volevo parlarvi piuttosto che di stilografiche e di inchiostri perché insomma, a parte il fatto che appunto come molti di voi sanno io me li faccio anche sia per inchiostri per intinzione, per uso quindi coi pennini in intinzione, in zuppo che per le stilografiche, quindi ferrogallici anche colorati, ferrogallici a rilievo, insomma di tutto di più però siccome non mi era mai capitato di parlare anche di inchiostri perché ho tanti inchiostri anche insomma mi sono fatto abbastanza le idee chiare anche sugli inchiostri cosiddetti industriali e partiamo subito col botto, ad esempio qua ho insomma uno dei marchi principi diciamo sia sulle stilografiche e anche sugli inchiostri, quindi stiamo parlando di Montblanc, Montblanche anzi no? Niente, qua vedete io di questa casa ho questi tre qua, questi due e si nota anche una cosa che questi sono inchiostri decisamente più vecchi di questo qua, di questo caramaglio vedete che qua è squadrato, anche diciamo il contenuto questi sono 50 ml questo un po' più grande, un 60 ml, questi due mi sono stati regalati, questo l'ho acquistato io recentemente perché mi aveva convinto diciamo questo che vedete Irish Green però poi alla prova dei fatti adesso non vedete, lo si è dimostrato un po' troppo acceso per i miei gusti perché quello che contesto agli inchiostri moderni è quella cosa un po' di sintesi che insomma sono tutti molto sparati, molto accesi, molto insomma molto chimici allora adesso li tolgo un attimo, andremo poi a provarli ecco proveremo poi delle penne ma allora vedete io ho un parterre di penne che porto sempre con me in una diciamo in una confezione da quattro insomma un set da quattro penne, sono penne, sono queste qui, a me piacciono molto ve le faccio vedere se qualcuno mi chiede ma che penne è sono penne della Cross, sono queste qui vedete il set calligrafico, scusate stirografico della Cross poi vabbè qua mi dice terminato ma penso si trovino ancora tranquillamente in giro insomma con poco più di 50 euro, si trovano queste ottime penne a me piacciono molto quindi ogni penna di queste ha chiaramente non ci sono tantissimi colori quindi questo è sicuramente il blu, sono caricate con questi inchiostri quindi il verde che è riconoscibile dal cappuccio vedete gli ho fatto una colata di colore questo è il nero, questo è il verde, il blu e questo qui è caricato con un inchiostro mallogallico quindi un colore diciamo bruno ok, dei miei, quindi questo ha un colore diciamo mio questi tre invece sono questi qua ok, adesso poi andremo a vederli man mano ma la cosa che vi volevo dire è che gli inchiostri io vedo fare molte prove, molte recensioni sugli inchiostri anche lì c'è molto da, secondo me, da imparare io sto buono, sto zitto, ma insomma ci sono molti, molti errori di base cioè nel senso non posso, vedo spesso usare, non so, il cotton fioc per l'inchiostro ok, il cotton fioc secondo me però va sempre bene solo per avere, diciamo, una pezza giustificativa di quel colore ma non posso fare delle grosse cose con un cotton fioc anche se io li uso come strumenti inusuali però insomma poi mi ritrovo a scrivere con le penne così oppure con queste penne, ecco ecco questo è un ottimo modo per punte e quadre grandi allora vedo esattamente un po' cosa mi succede su una grande superficie anche se lo strumento elettivo rimane poi sempre la stilografica per quanto riguarda, diciamo, gli inchiostri però adesso andremo a vederli io ho già fatto delle prove con questi inchiostri adesso poi lo farò anche davanti a voi qua faremo delle prove comparative ma ecco, volevo solo farvi vedere ad esempio ecco non so perché queste luci artificiali però insomma restituiscono abbastanza bene vedete questo è comunque il Mont Blanc Royal questo è il classico nero il black Mont Blanc questo è un tannico mio nero vedete, non so se si riesce a vedere è un po' meno acceso vedete, ecco comunque vedete quale contrasto mi fa piacere che la camera lo mostri questo è molto più spiccato più acceso il mio tannico è molto più tranquillo più sull'opaco, diciamo ok allora la prima cosa che vi posso dire è che nonostante abbiano già un po' di anni adesso non mi ricordo quanto tempo fa mi hanno regalati ma nessun problema nessun cioè rimane lubrificato bene è già molto tempo sarà almeno due o tre mesi che ho fatto queste scritte non è successo niente prendono luce diretta tutto il giorno non è successo niente cosa che non è male per uno stirografico perché l'avessi fatto con un 4001 questa cosa qua mi avrebbe già ceduto dopo due o tre mesi cioè avrei già avuto delle perdite cromatiche di tono, di saturazione eccetera eccetera questo ha tenuto quindi a un orda vero bisogna dire che insomma su quello ha già tenuto poi scendiamo nel dettaglio di prove allora andiamo 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 col nero e poi col blu che sono quelli che avete visto mi avvicino un po' di più così andiamo a vedere meglio ok allora allora queste allora altra cosa sono cross ma tutte taroccate nel senso che sono penne che hanno pennini che ho fatto sostituire dal mio amico Erminio Murrao ecco scusate ero al limite ok e quindi mi servono essenzialmente per scrivere qui ok in gestuale mia ma anche in corsiva inglese insomma corsivi posati eccetera eccetera tutte e quattro le penne hanno dei pennini molto performanti ok perché e sono sempre pronte queste quattro penne sono i quattro moschettieri perché sono sempre pronte all'uso se mi serve qualcosa le penne sono immediatamente pronte le faccio sempre manutenzione e sempre cariche col loro colore allora in quest'uso in questo uso cioè un uso corsivo normale questo inchioso si comporta benissimo perché aiuta la penna a scrivere eccetera eccetera non ho però un nero così sparato cioè ecco in questo caso la camera me lo restituisce abbastanza nero ecco ma vi posso assicurare che davvero beh andiamo a vedere se riesco a fargli una zoomata una zoomata un po' più più sparata ecco qua però vabbè adesso si vede un po' meglio vabbè dove ho cariche cioè dove ho accumuli d'inchiostro vedete è molto più scuro però in queste zone qua non ho mai scritto compressione vedete che qua è più scuro qua un po' meno scuro cioè non ho quel nero intensissimo che non so ad esempio un'aurora un'aurora black può darmi ok qua non ce l'ho però per tutto il resto è una penna vabbè la cappa ha messo in difficoltà il pennino con la condotta ma ci sta lo sapete però non ho quel nero veramente intenso quindi gli amanti del nero intenso del nero intenso diciamo potrebbero restare delusi da questo inchiosto comunque sono tutti inchiosti abbastanza costosi come sapete perché insomma il blasone parla da solo quindi parliamo sempre inchiosti che si avvicinano sui 30 euro anche 35 questo il green questo qua l'ho pagato appunto quasi 35 euro insomma non sono inchiosti diciamo regalati andiamo a vedere il blu ecco vi dirò che il blu già di per sé lo preferisco al nero mi piace un po' di più perché non è un nero cioè pardon non è un blu sparato anche questo vedete ha un pennino chiaramente molto molto performante vedete il ritorno elastico del pennino c'è sempre però ecco questo è un bel blu non è uno di quei blu sparati ha tutti i compromessi buoni di lubrificazione insomma non è male a me piace a me piace molto questo blu ok ecco qua scusate è riuscito fuori eccolo qua quindi un bel un bel blu non mi dispiace ok quindi ai punti riferisco il blu al nero poi andiamo a vedere il verde il verde vi dirò che invece l'irish green mi ha un po' deluso perché pensavo fosse un po' più perché loro me lo presentano come un verde quasi oliva bella matura cioè un verde bello scuro insomma quel verde almeno dalle dalle immagini della anche qua dove è riportato sulla scatola è un verde particolare un verde oliva scuro che mi piace molto però la prova dei fatti anche questa ovviamente liberamente come le altre una variazione di tratto estrema ecco qua sembra scuro sto vedendo dal video adesso ma è abbastanza brillante acceso non mi sconfiffera più di tanto purtroppo non riesco a dar ragione lo avvicino un po' ecco forse qua ma lo dà sempre insomma il video me lo dà più bello di quanto lo vedo di quanto lo vede in realtà e assicuro che invece è molto 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 acceso l'avrei gradito più più spento cioè più più scuro ok mi dispiace perché in questo caso la diciamo la la luce che ho artificiale per quanto abbia un buon set di luci me lo dà vediamo vediamo se riesco a cambiare le impostazioni della lasciamo così magari mi sbianca la mano ma è un po' più un po' andiamo a rivederlo ecco vedete qua si vede meglio che insomma un po' più acceso quindi a me che piacciono i toni un po' più scuri ecco qualche difficoltà insomma ce l'ho perché non mi piacciono appunto mi sanno molto di chimico ok inchiostri molto molto di sintesi ok vi faccio poi solo un'ultima prova che però la andiamo a fare su un foglio diverso perché questo è uno schizze strappa quindi una carta particolare ma adesso andiamo a fare la scoglia che è decisamente più spesso che uso per prove con penne ad intinzione adesso andiamo a fare il blu e il nero in diretta con queste penne grandi che secondo me è la miglior prova perché ho una grossa superficie di impatto niente bellissima tinta ecco vedete che in questo caso diventa molto più apprezzabile il colore anche quando lo scarico non ho una saturazione immensa però però non mi dispiace non è non è quei blu sparati proprio alla pelican 4001 ecco quindi secondo me ecco questa è una bella prova con insomma sia la stilografica che per vedere un po' le rese su carta insomma sulla lubrificazione perché in questo caso la lubrificazione non mi inficia anche la cosa andiamo a vedere invece la stessa prova con questa altra penna quindi con il nero ma su questa carta non è male perché poi dipende sempre anche dalla carta che su questo è una bella resa di nero l'altra carta è una carta fatta a mano particolare acid free quindi magari soffriva anche con la trama della carta no decisamente su questa carta che insomma io lo uso spesso in questo caso si sta scaricando la penna ma vedete il cromatismo rimane sostanzialmente intatto però con la stilografica non ce l'ho così bello nero cioè ho bisogno di un grosso allora su grosse superfici lui rende veramente bene andiamo ad avvicinarci un po' insomma è notevole è notevole quello lo vedete è veramente notevole poi è chiaro a me quel blu non dispiace ma insomma altri adesso poi vi faccio vedere un'ultima cosa la differenza cromatica su quella carta fatta diciamo a mano ecco allora torniamo in campo grande ok niente così non mi dispiace intenzione rende bene quel nero intenso effettivamente qua mi è piaciuto di più con la stilografica su questo tipo di carta adesso vi faccio vedere solo un'ultima cosa giusto per farvi vedere le differenze cromatiche allora vi faccio vedere allora questo è un foglio prova mio vedete ad esempio il blu del pisello farfalla che è una pianta un fiore di una pianta che fa un bellissimo blu il pisfade è la l'unione tra pisello farfalla e carcadè ci sono diverse cromie ecco invece questo qui è il blu carcadè che vedete molto più scuro molto vediamo se riesco a farvi vedere ecco la differenza devo devo questo foglio un attimo così da farvi vedere ecco andiamo a ingrandire andiamo a portarci sul livello di zoom maggiorativo ecco guardate questo è ok Montblanc è quello che avete visto però su questa carta dove vedete la trama un po' insomma si vede anche insomma ho molti alveoli bianchi dove non è riuscito ad arrivare l'inchiostro perché la grammatura della carta è particolare questa è la stessa carta comunque e vedete che è un blu molto più bello in te cioè questo è il blu carcadè mio è chiaro io preferisco questo a parte il fatto che poi questo è anche indelebile questo non lo so ma penso proprio di no ma penso di no perché gli stilografici classici non sono fatti per tenere l'acqua comunque era l'ultima cosa che volevo farvi vedere niente gli inchiostri sono questi qua il mio consiglio qual è il mio consiglio è boh vedete voi a me l'hanno regalati uno l'ho provato e sono rimasto deluso io sinceramente non andrei a spendere tutti quei soldi a meno che boh sia un patito di Montblanc e voglio avere solo Montblanc caricato sulle penne altrimenti soprassiederei mi piacciono molto invece i caramai perché li trovo veramente ottimi perché sono pesanti boccaglio abbastanza grande la possibilità di far andare l'inchiostro in questa parte del contenitore del caramaio e mi consente di pescare anche poco inchiostro quindi un'ottima cosa questa qui e poi tra le altre cose a quanto pare è stata clonata da Aurora che aveva dei caramai tanto tanti decenni fa però fatti in plastica loro l'hanno fatto solo poi meglio però pare che la prima genitura di questo caramaio fosse di Aurora e quella vedete adesso di profilo come cambiano li vedete questo è un po' più grande contiene 60 ml però appunto non è che mi sento di comprare diciamo il Montblanc per il caramaio e quindi il promosso sì però insomma lo stesso discorso della penna vale tutti quei soldi boh per me la farei tra altri diciamo inchiostri che mi interessano di più anche che secondo me hanno delle prestazioni superiori e con un prezzo inferiore tra le altre cose io non credo come ho già detto alcune volte non credo che Montblanc come tutte le manufatture di penne occidentali non si fanno gli inchiostri da soli non ho questa certezza però al 99% non credo proprio che ce l'abbiano perché richiede tutta una struttura che ormai le imprese così che fanno penne non possono permettersi quindi non so però qual è perché poi è un segreto di Stato capire qual è il loro fornitore però come ho già detto sono tre o quattro ditte in Europa che li fanno poi cambiano un po' le particolarità degli inchiostri perché poi ognuno tende a farselo fare in una certa maniera ma i costruttori i fabbricatori di inchiostri sono altri non sono Montblanc non sono Aurora non sono Pelican insomma i grossi ma anche tanto più i piccoli non possono permettersi questa cosa niente quindi la mia prova su questi inchiostri finisce qua però onestamente non posso dire che non vadano bene me le hanno regalati ogni tanto li tiro fuori e li uso però ecco non è che diciamo posso gridare al miracolo con questi inchiostri cioè si pongono in una gamma alta purtroppo costano un botto ma come sapete qua si paga moltissimo il brand non non il prodotto la caratteristica del brand insomma quella di di essere piuttosto costoso e questo si ripercuote anche sugli inchiostri e con questa considerazione vi saluto e vi ringrazio come sempre per essere stati qua con me ciao a tutti e buona giornata ciao a tutti